Carlo, ti va di ballare? Adesso? Adesso. Non è che per caso ti ricordi dov'eri nell'agosto del 75? Io cerco di dimenticare tutto, però quello era l'anno della caduta di Saigon. Difficile dimenticare la caduta di Saigon. Ma dopo tu sei tornato in Italia. Io credo di non essere mai tornato. A tu sei quella nuova, eh? Cosa? Ora ti faccio vedere che cosa piace a questo bastardo. No, 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 no.